Guai a parlare di inciucio e neppure di accordo trasversale, mettono le mani avanti da settimane i principali esponenti di PD ed NCD, ma in consiglio regionale la collaborazione è un dato di fatto. Il percorso sulla modifica dello statuto e l'avvio del processo delle riforme continua a trovare il partito di Angelino Alfano sulla stessa lunghezza d'onda del presidente Oliverio. I proclami elettorali sembrano così un lontano ricordo da una parte e dall'altra. Sulle scelte già adottate, su quelle da adottare, il gota del nuovo centrodestra recita un ruolo non proprio da comprimario. La sintonia con il capo dell'esecutivo, dalla politica sugli atenei al dibattito sul regionalismo è pressoché totale. C'è una percezione ostile nei confronti dell'istituzione, ha asserito ieri Pino Gentile, che va affrontata con spirito di iniziativa e rendendo agile la struttura burocratica e la funzione legislativa della regione. Modificare lo statuto coinvolgendo associazioni e società civile è un primo passo sostanziale. Analogamente, a giudizio dell'NCD, sarà importante che Consiglio e Giunta modifichino i regolamenti al fine di rendere chiara e tracciabile la procedura legislativa e amministrativa. Il Nicodascola, dopo qualche mese tornando ad occuparsi di vicende calabresi, ha rammentato la necessità di dare a questa regione al più presto un commissario alla sanità. Obiettivo che Mario Oliverio persegue convinto. Il nuovo centrodestra non sembra al momento ostacolarlo, anche se gli ostacoli, quelli di natura legislativa, verso la poltrona che fu discopelliti, non sono certo irrilevanti per l'attuale presidente della regione.